Credo che ha avuto un problemino e quindi valuteremo domani. Sì, comunque non si è allenato, ha avuto un'influenza per un po' di giorni, un problemino e ieri un altro problemino. Noi abbiamo raggiunto un livello di gioco importante a fine anno, calcistico e solare, scusate, con la vittoria su Stati Tirol. Abbiamo fatto una buona gara a San Benedetto, anche un'altra buona gara in casa non raccogliendo nulla e in termini di punti cerchiamo di affrontare questa partita, è una partita sulla carta così un po' magari molto difficile, però noi giochiamo contro una buona squadra, ben allenata, ma noi siamo in grado di poter fare una buona gara. Il mercato di gennaio è un mercato di riparazione come si dice in gergo e quindi le squadre che fanno qualche movimento perché hanno bisogno di completare i rosa oppure di riparare a qualche errore del mercato estivo. Io credo che noi siamo bene così come siamo. Abbiamo fatto degli acquisti mirati che ci hanno permesso di, che ci permettono di scegliere ancora meglio. Adesso confidiamo nel recupero di, confidiamo intanto nel fare qualche risultato a breve termine e nel recupero, sono sicuro che lo facciamo, che lo faremo, se dice i congiuntini non sono massati in mia forza. E poi confidiamo nel recupero di tutti per fare le ultime partite alla grande. Beh, le partite sono tutte importanti, poi noi sappiamo il cammino che ci aspetta da qui alla fine, quindi affrontiamo la partita di volta in volta con la giusta consapevolezza di avere una buona squadra. Il mio modo di intendere il calcio è stare nel più tempo possibile nella metà campo avversaria. Quando non ci si riesce ci sono dei meriti degli avversari, dei nostri dei meriti, quindi noi dobbiamo far sì che i meriti degli avversari siano sempre meno e che siano i nostri meriti per cui siamo nella metà campo avversaria. Anche se poi la qualità dei calciatori è importante e anche l'atteggiamento che hanno le squadre avversarie, perché quando non ci vogliono far stare nel nome da campo basta calciare il pallone alla nostra e quindi è così, eri tutti io ma è così. Io credo, come il mio modo di intendere il calcio, che sia fatto di, se noi scorporiamo la partita, di tanti duelli individuali e quando vinciamo quelli abbiamo più possibilità di fare la nostra partita e ultimamente ne stiamo vincendo pochi.